bentornati sul canale non aprite questo blog io sono il gonz e oggi sono qua per fare un aggiornamento della collezione un po particolare sono stato invitato da coach media a una challenge in occasione dell'uscita in un video del nuovo film del franchise a quiet place a quiet place 2 e questa challenge si teneva al politecnico di milano in una stanza anecoica spero di averlo detto bene è una stanza praticamente dove il suono insomma i rumori che voi fate all'interno non rimbalzano da nessuna parte nel senso che noi siamo abituati ad ascoltare un suono un audio la nostra voce che si riflette contro le pareti e gli oggetti e ci torna indietro quando siamo lì dentro la sensazione è molto strana e i suoni sono diversi sono più brevi non hanno questo appunto riverbero chiamiamolo scusate se non uso termini corretti non sono molto esperto di queste cose per spiegarvela meglio le pareti hanno un po come accade nelle sale di registrazione dove si suona hanno tutta una serie di figure geometriche che impediscono al suono di tornare indietro fondamentalmente il suono si infrange si spezzetta diciamo e quindi a un suono che conoscete benissimo all'interno di questa stanza fa un altro suono perché ci hanno fatto andare là perché praticamente la challenge consisteva nell'aprire una edizione steelbook una bellissima edizione steelbook di a quite place 2 questa qua che troverete disponibile sul nuovo sito fan factory di coach media ma anche sugli altri siti insomma anche su amazon questa edizione qua era chiusa cioè con il celofan solito intorno aveva un fiocco fatto con una carta bastardissima da aprire con doppio nodo da una parte dall'altra ecco tutto questo andava fatto dentro la stanza necoica con un microfono che rileva i decibel io ho partecipato alla challenge aprendo questa con questa edizione insieme ad altre persone e fortunatamente ho vinto io il film l'ho visto mi è piaciuto e ho fatto anche la recensione quando uscì al cinema la trovate sul sito di non aperte questo blog andate a leggere per me è un film di intrattenimento estremamente curato e fatto bene il ritmo del film è buono e se riuscite a farvi coinvolgere è un film abbastanza adrenalinico e divertente questa è l'edizione 4k contenente il disco 4k e il disco blu ray devo ancora visionarla nuovamente perché il film ho già visto comunque l'ho visto da poco però devo dire che le steelbook fanno sempre la loro porca figura sono veramente belle adesso io questa l'ho tutta riempita di di tate così sono ancora più belle ho vinto la challenge per puro culo non lo so l'ho vinta ho fatto meno rumore di tutti aprendo questo pacchetto e tirando fuori anche i dischi quindi senza fare particolare rumore in un tempo dignituoso e ho vinto una bellissima borsa di midnight factory con dentro una maglietta di midnight factory che desideravo da tantissimo tempo perché midnight comunque è un marchio fighissimo secondo me perché chi ama l'horror non può che adorare midnight factory e dentro c'erano un po di film ve li faccio vedere insomma film in regalo per aver vinto questa challenge ve li faccio vedere anche se purtroppo ce li avevo già tutti per cui non lo so non lo so cosa ne farò un giveaway li regalo li dono non lo so però sono veramente una bomba sono film stupendi uno è la saga di omen che è stupenda in blu ray io amo tantissimo il primo film gli altri quattro non sono così belli ma comunque la saga vista tutte insieme è davvero piacevole questa è una bellissima edizione omen spacca poi ho vinto vita da vampiro bellissimo in dvd ce l'ho già e anche questo il film è stupendo questo qua è veramente uno dei migliori film horror comedy degli ultimi anni davvero un talento the neon demon versione dvd anche questo ce l'ho già the neon demon cosa volete dire c'è un bel film ragazzi questo poi non lo so veramente bello un altro bel film che ho apprezzato è revenge versione dvd con matilda luz che c'è bravissima è veramente bravissima qua è bravissima è bravissima anche in classic horror story è bravissima è veramente brava veramente brava e poi vabbè un film non horror però un famosissimo film di steven spilberg salvati soldato ryan in blu ray e ho vinto anche pezzi metri anche questo ce l'ho già il questo è il remake che alla fine non è male non è così indecoroso come potrebbero essere altri remake mi è piaciuto diciamo soprattutto il finale quindi sia un po risollevato sul finale mi è piaciuto il finale un po così catastrofico chiamiamolo questo è un buon film anche questo ce l'ho già sono comunque felicissimo di avere vinto questi film la maglietta e la borsa di midnight factory vedrò cosa farne insomma magari farò un giveaway oppure li regalerò così da magari invogliare qualcuno diventare anche lui collezionista di film horror a quite place 2 esce sia in questa versione 4k bella comunque c'è nulla da dire ma esce anche in blu ray dvd ed esce anche una collection blu ray dvd con i due capitoli insieme quindi se non avete io ho già il primo capitolo quindi questa è perfetta però se non avete ne uno nell'altro e volete averli insieme potete comprare la due film collection di coach media questo è tutto per quanto riguarda questo anomalo aggiornamento della collezione ringrazio coach media ringrazio voi che avete guardato il video se vi è piaciuto mettete un like scrivete nei commenti quello che vi pare iscriviti al canale e ci vediamo al prossimo video